Una banda specializzata in furti all'interno di villette, nel particolare quelle di utilizzo estivo del complesso residenziale Ecosport nella frazione di Costa Merlata nella zona di Ostuni, è stata sgominata dagli agenti del commissariato della città bianca. I manette, con l'accusa di rapina impropria, furto aggravato e ricettazione, sono finiti quattro pluri pregiudicati originari di Bari. Si tratta di Vita Antonio Fiore, 30 anni di Bari, Maurizio De Stefano, 33 anni di Modugno, in provincia di Bari, Massimiliano Covato, 45 anni di Bari e Luca Francavilla, 23 anni di Trigiano, in provincia di Bari. La banda, per i suoi numerosi e pericolosi spostamenti, utilizzava una potente Audi A4 Station Wagon nera con motore e potenza modificati per aumentarne la velocità e sfuggire i controlli di polizia. Agli arrestati le forze dell'ordine sono arrivati al termine di una complessa ed articolata attività d'indagine. Tutto è iniziato alle 12 di sabato scorso, 21 maggio, in seguito alla segnalazione arrivata nella sala operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni, diretto dal commissario capo Gianni Albano, che informava del furto avvenuto pochi minuti prima a Bari di una Fiat 1 di colore grigio che alcuni testimoni avevano visto imboccare come via di fuga la statale 379 in direzione Brindisi. A quel punto sono scattati i controlli sulla zona indicata anche dagli agenti della Città Bianca, che hanno portato ad appostarsi nella località di Costa Verlata, contrada alla Masanta, nei pressi del parcheggio dell'Ecosport. Qui gli agenti hanno notato all'interno di un viale del villaggio dove ci sono numerose villette a schiera la presenza di quattro giovani con in mano tubi e infissi di alluminio vicini ad un'auto rivelatasi essere proprio la Fiat 1 di colore grigia, oggetto di furto della segnalazione. Chiamati i rinforzi, i poliziotti sono entrati nell'area delle ville avvicinandosi ai giovani che si sono accorti della loro presenza mentre erano vicini ad un'altra Fiat 1 di colore bianco, risultata poi rubata anch'essa e gli agenti sono stati costretti ad intimare l'alt perché i giovani si sono accorti della loro presenza. I quattro compari hanno iniziato a correre via a piedi tra i viani del villaggio, tre di loro sono riusciti a raggiungere un Audi A4 probabilmente posizionata già per la fuga in momenti di emergenza come quelli. Il quarto giovane era invece riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi e nascondendosi nella folta vegetazione. Tra l'Audi e le volanti di polizia con tanto di lampeggianti e sirene è nato un inseguimento protattosi per diversi minuti sulla statale 379 proseguendo ad intimare l'alt con alcuni colpi in aria che finalmente hanno convinto il guidatore dell'Audi a fermarsi nei pressi dello svincolo per Torre Santa Sabina. Bloccati i primi tre malviventi è stato effettuato il controllo e l'identificazione. Il quarto complice è stato arrestato poco dopo nei pressi del rondò posto all'incrocio di Costa Merlata sulla complanare lato mare a circa 500 metri dal villaggio. Assicurata la cattura dei quattro arrestati è partito il sopraluogo dell'intera area del villaggio saccheggiata. 15 villette erano state danneggiate, aperte e private degli infissi in alluminio già accatastati davanti ai cancelli d'accesso delle rispettive villette in attesa di essere caricati sulla Fiat Uno. In tutto l'alluminio trafugato è stato stimato in oltre 10 quintali unito a tutti gli altri innumerevoli e consistenti danneggiamenti effettuati oltre al furto di tutto ciò che costituiva l'arredo interno delle mille oggetto di furto. Il valore economico monterebbe ad oltre 200 mila euro. Gli arrestati dopo le formalità di rito su disposizione del pubblico ministero Costantini sono stati portati presso la casa circondariale di Prindisi dove restano a disposizione delle competenti autorità giudiziarie.